È una giornata molto importante per noi persone sorde, un convegno in cui parliamo di diritti delle persone sorde e delle persone sorde con più disabilità. Abbiamo autorevoli relatori, otto relatori, nonché dirigenti ENS provenienti da Roma e numerosi sordi provenienti da tutta la regione Calabria. E voglio anche dare una bellissima notizia perché il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una proposta di legge sulla promozione della lingua dei segni. Ha approvato all'unanimità che ci consente finalmente di poter abbattere le barriere della comunicazione e garantire una serie di servizi che consenta di garantire accessibilità per le persone sorde a 360 gradi. E voglio ringraziare anche le istituzioni regionali calabresi, nonché il Consiglio regionale della Calabria, tutto, sia nelle sue forze politiche di maggioranza che di minoranza, per aver mostrato grandissima sensibilità nei confronti delle persone con disabilità. È un giorno molto importante, come già dicevo prima. Abbiamo anticipato il convegno a giorno 1, in realtà noi celebriamo anche la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra ogni anno il 3 dicembre. Abbiamo ricevuto anche un prestigioso messaggio di saluti dal Ministro Locatelli che ci ha fatto ricapitare questa mattina e l'abbiamo letto ovviamente in sala. Sicuramente la proposta di legge aiuta le persone sorde, ma è chiaro che ci sono tantissimi altri servizi che devono essere garantiti, servizi di accessibilità, di inclusione, di interpretariato in lingua dei segni italiani che possano consentire una piena inclusione quotidiana delle persone sorde. Penso anche alle emittenti televisive, i sottotitoli non vengono garantiti 24 ore su 24, quindi ci sono ancora tante cose da poter fare.